Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di magia per il corpo Normalissimo mozzo di caccia Lo mischiamo Lo tagliamo E lo rimischiamo Ora, prima di iniziare questo trucco vorrei che vi dite in pausa questo video E vi procurate una penna e un foglio Ok, molto bene Ora che avete l'occorrente, cioè il foglio e la penna Iniziamo pure il trucco Mescoliamo il mazzo e lo mettiamo qui Vabbè, questo trucco dovrebbe essere esibito con uno spettatore che sceglie una carta a casa Ma siccome non c'è, però siccome oggi non c'è Lo faccio la sua, ma comunque l'effetto è sempre bello Allora, ora vorrei che nel vostro foglio scriviate un po' di mazzo Facciamo un bel pulizione Vediamo una carta a casa, ad esempio questo Vediamo Molto bello Vediamo adesso, scrivete nel foglio Scendiamo di una carta Un bel J Vediamo di una carta a casa, facciamo questo qua Molto bello Adesso Vorrei che scriviate Ma cambiamo un po' di segno Facciamo il J di Pink Sempre il J Perché mi piace Vediamo un po' Molto bello Ora cambiamo il complecato Prendiamo un bel Vediamo Il quattro di fiori facciamo Quattro di fiori Una carta a casa Molto bello Allora, ora voi Abbiamo Voi nel vostro foglio dovreste avere Dovreste avere Uno Due Tre Quattro Cinque carte E in effetti In mano con cinque carte Non una più Molto bello Ora Partiamo Dall'ultima Cioè da questo E saliamo Di una carta alla volta Allora L'ultima Nel vostro foglio dovreste aver scritto Un bel sei di cuore E il vostro foglio di cuore Penultima Un quattro di fiori La terz'ultima Un jack di cuore Di Che scordate? La seconda Un jack di fiori E la prima carta Il Q di fiori Grazie per aver visto questo video Spero vi piaccia Alla prossima Un jack di fiori E la vostra Un jack di u�e E la seconda